È stata una competizione vera, agonismo, impegno, colpi spettacolari e persino qualche infortunato. I dipendenti della BCC San Marzano si sono sfidati sui campi del circolo tennis Taranto nel primo torneo di Padel aziendale. Si sono sfidati in 24 alla fine dopo quattro ore di partite a ritmo intenso ha trionfato la coppia Mitrotti-Sgura. Alla premiazione presentata con la consueta verve da Antonio Sornaiolo ha partecipato il presidente della BCC San Marzano Emanuele Di Palma. Una serata all'insegna dello sport e dello spirito di squadra che caratterizza l'istituto bancario ionico. Non dobbiamo parlare solo di economia, di sociale, di cultura come normalmente facciamo, ma c'è anche lo sport. Lo sport è una componente importante della vita e per quello che riguarda invece una struttura bancaria come la nostra che è fatta di una squadra di oltre 100 persone è fondamentale perché lo sport ti aiuta a collaborare con i compagni in questo caso di partita ma poi in banca e i compagni d'ufficio. Dopo tanto tempo ritorniamo tutti assieme con uno spirito di gruppo e di allegria. Vi aspettavate di vincere? No assolutamente no, però man mano che passavano i turni abbiamo capito che comunque ce la potevamo fare. Io ho cominciato con le feste familiari, quindi ho fatto battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, estremunzioni. Mi mancava un po' l'impianto sportivo però quello del padel è una bellissima esperienza.